Ebbene sì signori ci siamo finalmente la prima batch awakening livello 80 è arrivata all'interno del gioco ed è arrivata portando in questo caso portando con noi i nuovi personaggi livello 80 salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco oggi oggi la storia cambia oggi entriamo ufficialmente in una nuova era siamo pronti detto questo andiamo nella parte che ci interessa eccoci qua lightning che riceve led e burst riceve anche il livello 80 insieme a edge vincent e poi zac rajin e penelo beh oggi abbiamo a disposizione 3 multi free abbiamo a disposizione la giornaliera che tra altro concluderà anche il mese di febbraio anzi no forse l'ultima e domani se non sbaglio si domani domani l'ultima multi summon gratuita di febbraio e poi abbiamo le altre due di lightning cominciamo subito dalla free multi giornaliera vediamo se comincia bene la nostra giornata orb dorata che è un ottimo inizio per quanto riguarda questo video pool quindi vuol dire che già abbiamo una ex all'interno di questa prima non mi dispiace alla fine ci sta un doppione alla fine ci può anche stare quindi lo accetto lo accetto di questo banner praticamente edge vincent e lightning li ho tutti e tre non mi dispiace non mi interesserebbe trovare neanche copie il banner su cui magari andrò di ticket sarà probabilmente questo perché mi mancano perché comunque rajin mi manca e mi piacerebbe comunque poterlo trovare adesso rispetto comunque ad altri penelo ce l'ho zack ce l'ho e lightning ce l'ho quindi alla fine diciamo che probabilmente avendo 500 ticket tondi tondi penso che qualcuno in cerca dell'ald potrei anche buttarlo allora free multi prima free multi che ovviamente è una orb azzurra che già mi fa esagire il fatto di non aver trovato nulla che comunque le orb azzurre senza loading senza nulla diciamo le armi non le ho caricate quindi purtroppo rimaniamo fermi 35 e 35 di edge 35 di lightning 35 di edge ok due power stone fondamentalmente però va bene lasciamo 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 perdere ecco non voglio neanche commentare secondo banner free multi non c'è stato loading però orb dorata vediamo probabilmente sarà un doppione però sicuramente un doppione io in realtà speravo nella ld già qui trovato dal free in modo tale da non spendere altre risorse ma vediamo giustamente penelo doppione giustamente penelo doppione giustamente penelo ce l'avevo quindi non mi interessa fondamentalmente va bene abbiamo 500 ticket io direi che almeno la ld possiamo tentare di trovarla con queste risorse quindi direi che mi muto e vi lascio ai miei ticket direi che mi muto e vi lascio ai miei ticket Grazie a tutti. 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 Dopodiché per me il banner è ufficialmente chiuso. Quindi let's go. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene. Ci abbiamo provato. Purtroppo Raijin non è voluto venire dalla nostra parte, non ha voluto farci compagnia. Magari facendo qualche ticket all'interno del ride, potrei pensare di spendere qualche cos'altro, magari spendiamo qualche cos'altro in live insieme. Visto che comunque avevo intenzione di spendere decisamente più ticket. Quindi fortunatamente ci sono andato mi è andata bene, mi è andata molto bene con questa LD, quindi io direi che per il momento è tutto. Vi ringrazio per essere stato. Vi ringrazio per essere stati con me, ovviamente ci vediamo su Twitch per vedere in azione questi livelli 80, formare il ride insieme e discutere un pochino di com'è fondamentalmente questa nuova Lightning. Grazie ancora per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.